Musica Le 20.30 di nuovo, buonasera dagli studi di TG2000. Apriamo questa edizione del telegiornale con una notizia dell'ultima ora che arriva da Miami, dove un ponte pedonale, lo stiamo vedendo dalle immagini in diretta, è crollato sulla strada sottostante nei pressi della Florida International University. Ci sarebbero molti morti, secondo la polizia stradale locale. Sul luogo del disastro, che stiamo vedendo, sono subito arrivati i soccorritori per aiutare le persone coinvolte, i feriti, cercando di individuare eventuali persone sotto le macerie. Nel crollo sono rimaste schiacciate almeno sei auto. Un giornale locale parla anche di otto persone ricoverate d'urgenza in ospedale. Secondo fonti locali, il ponte pedonale dell'università era stato installato soltanto sabato scorso. Secondo la CNN, l'opera è costata 14,2 milioni di dollari, finanziati dal Dipartimento dei Trasporti. Lasciamo per il momento le immagini che arrivano in diretta da Miami. Naturalmente, qualora ci fossero aggiornamenti, ve li daremo nel corso del telegiornale. Proseguiamo adesso con il duro scontro fra Londra e Mosca dopo l'avvelenamento di una ex spia russa passata ai britannici. La Premier May, che ritiene il cremlino responsabile del gesto, ha ordinato l'espulsione di alcuni diplomatici russi. E il governo russo ha ripagato gli inglesi con la stessa moneta. Sentite Marco Burini a seguire l'analisi di Alberto Negri. Siamo al cartellino rosso, all'espulsione reciproca dei diplomatici, nella partita che Londra e Mosca giocano dal 4 marzo, quando un ex spia russa ha passato ai britannici, Sergei Skripal, è stato avvelenato con il gas nervino a Salisbury, insieme con la figlia. Entrambi sono ancora gravi, mentre gli intossicati sono una ventina. Il Premier britannico May ha ordinato l'espulsione di 23 diplomatici russi, considerati spie sotto copertura, sospendendo le relazioni bilaterali di alto livello e annunciando una serie di misure minori. Per ritorsione il governo russo ha annunciato che farà altrettanto, ma il cremlino preferisce minimizzare la vicenda. Secondo il ministro degli esteri russo Lavrov, il caso Skripal è una manovra degli inglesi per complicare i mondiali di calcio che la Russia ospiterà quest'estate. Oggi Putin ha riunito il Consiglio di Sicurezza per studiare la situazione, ma non sembra troppo preoccupato. Nemmeno le elezioni di domenica lo inquietano. Mai vincitore fu più annunciato. Forse l'unica sua preoccupazione è tagliare due traguardi simbolici, il 70% di affluenza e il 70% di voti. In effetti la sindrome da fortezza assediata, con cui l'ex spia del KGB comanda la Russia da anni, potrebbe ricevere un altro rinforzo dal caso Skripal. Londra intanto ha incassato il sostegno di Germania e Francia, che hanno firmato una dichiarazione comune contro Mosca. Ma si è guardata bene dal toccare i beni e le proprietà dei ricchi imprenditori russi nel Regno Unito. Ne ha riparlato delle sanzioni internazionali contro alcuni collaboratori di Putin. A proposito, anche gli Stati Uniti hanno appena deciso sanzioni contro 19 russi, accusati di aver interferito nelle elezioni americane di due anni fa. Tutti contro la Russia, la Russia contro tutti. Ma è una guerra o una scaramuccia? Questa vicenda del gas nervino a Londra lascia perplessi, ancora per due motivi essenzialmente. La prima è perché mette in dubbio la proverbiale efficienza dei servizi russi. E' come se si fosse tentato un omicidio lasciando l'impronta sulla pistola. Il secondo motivo è che l'agente che era stato bersagliato, in realtà era ormai un agente bruciato. Un ex agente che aveva defezionato e che era stato scambiato con altri agenti russi in Occidente. Quindi di solito i servizi segreti di tutto il mondo, quando fanno operazioni di questo genere, ci mettono una pietra sopra. Ma probabilmente la Gran Bretagna attraverso un momento di grande difficoltà e forse avere anche le prove di questo tentato omicidio sarebbe una cosa buona e giusta. Come chiede del resto anche il leader dell'osposizione Corbyn. In fondo l'Inghilterra era stato il paese che con Blair aveva avallato la famosa bugia delle armi di distruzione di masse in mano a Saddam Hussein nel 2003. Poi c'è un altro aspetto. Sì, è vero, sono stati espulsi i diplomatici russi a Londra, ma in realtà la vera centro degli interessi, Londonograd, ovvero la presenza di tutti gli oligarchi russi miliardari, non è stata messa in pericolo, come neppure le importazioni di gas dalla Russia. Una vera guerra invece è in corso ormai da sette anni in Siria. Era il 15 marzo 2011 quando è cominciata e da allora oltre 350.000 persone sono morte. Ancora oggi infuriano gli scontri e la popolazione è stremata. Silvio Vitelli. Era il 15 marzo 2011, esattamente sette anni fa, quando a Damasco si svolse il primo inedito corteo di protesta contro il regime. I poteri di uno stato repressivo reagirono con la violenza e in pochi mesi lo scontro degenerò in una spirale inarrestabile. Sette anni durante i quali sarebbero morte quasi mezzo milione di persone. Le truppe siriane e i loro alleati continuano ad avanzare nella guta orientale, martoriato soborgo di Damasco, e sarebbero riusciti a prendere il controllo di alcune aree. Due località sono di fatto cadute in mano alle forze governative e i miliziani antiregime si sono ritirati. La TV siriana afferma che 10, forse 12.000 civili hanno lasciato oggi la guta orientale. Si tratterebbe del più grande esodo dall'enclavo. Ci hanno costretti qui. I ribelli non ci facevano uscire. Abbiamo negoziato con loro per tre giorni. Volevamo andarcene tre mesi fa, ma non ce lo hanno permesso. Ci hanno fatto morire di fame. 700.000 invece. I civili intrappolati ad Afrin, la città kurda nel nord-ovest, ormai sotto l'assedio di forze speciali turche e ribelli loro alleati. Lui aveva chiesto alla Turchia di ritirare le proprie truppe. Il Parlamento europeo non si agiti inutilmente. Fino a quando il nostro lavoro non sarà finito, non ce ne andremo ad Afrin, ha dichiarato il presidente Tufko Erdogan. Sono le politiche in Italia. Il Movimento 5 Stelle ha avviato i colloqui con gli altri partiti per trovare convergenze sui nomi dei presidenti delle Camere. In particolare Di Maio e Salvini avrebbero dialogato anche sulla formazione di un governo. Augusto Cantelli. Grande coalizione malitaliana Salvini chiama e Di Maio risponde. Rotto il ghiaccio. 5 Stelle e Lega lavorano su un'intesa per uscire dallo stallo post-elettorale. Il primo contatto telefonico tra Salvini e Di Maio non è andato male. Anzi, sebbene oggetto del colloquio fossero le presidenze di Camera e Senato, ci sarebbe stato anche spazio per l'argomento principe, ossia la formazione di un governo. Ma chi sarebbe il Premier? Su quale programma? In campagna elettorale non sono mancati motivi di scontro tra Carroccio e Pentastellati, ma non sono mancati neppure i punti di contatto. Sui temi economici il Carroccio vuole la flat tax, ossia la tassazione unica. I 5 Stelle invece il reddito di cittadinanza. Difficile trovare un'intesa per i leghisti. Il reddito di cittadinanza è visto come una forma di assistenzialismo, qualcosa di antropologicamente lontana dall'idea produttiva del Nord. Sulle pensioni invece un accordo è possibile. La Lega vuole l'abolizione della Fornero. I 5 Stelle una modifica. Anche sull'emergenza e migrazione le posizioni non sono distanti, così come sull'Europa, sebbene la posizione della Lega sia più anti-euro rispetto a quella grillina. Sul taglio dei vitalizi invece l'accordo è possibile. Resta la legge elettorale, strumento necessario poi per tornare al voto. L'idea sarebbe quella di un sistema con premio di maggioranza. Ma la partita sull'esecutivo per i 5 Stelle non è legata a quella della Presidenza di Camera e Senato. Altro tema, immigrazione. 117 persone sono state tratte in salvo da una ONG spagnola. I soccorretori hanno riferito che la loro nave era inseguita da un pattugliatore libico armato. Caterina Dall'Olio. Call me, call me. One by one, only people have jacket, ok? Queste immagini drammatiche trasmesse poco fa dall'agenzia Reuters sono l'ultima terribile prova, come se ancora ne servissero, della condizione in cui arrivano i profughi dalle coste libiche. Occhi sporgenti, bocche aperte, volti ridotti a scheletri, malati, malnutriti. Queste immagini riportano a una memoria che si riteneva ormai morta e sepolta, quella della deportazione degli schiavi. Questi uomini eritratti fanno parte dei 93 migranti sbarcati a Pozzallo tre giorni fa. Tra di loro c'era Segen, giovane eritreo di 22 anni, arrivato a Pozzallo a bordo della nave di un ONG spagnola, in condizioni fisiche disperate, malnutrito e con problemi respiratori causati dalla tubercolosi. A nulla è valsa la corsa al pronto soccorso di Modica, il giovane eritreo è morto appena arrivato, di media. E proprio dall'Eritrea arriverebbe, secondo Frontex, il maggior numero di immigrati sulla rotta del Mediterraneo centrale, seguiti dai tunisini. In totale, sulle quattro rotte a febbraio, sono stati 3.400 gli attraversamenti irregolari delle frontiere, un calo di tre quarti sul 2017. Nei primi due mesi dell'anno, il numero complessivo si è dimezzato a 12.000, in gran parte per la minore pressione migratoria della rotta del Mediterraneo centrale. L'ultimo sbarco ha visto arrivare 117 migranti finiti in mare. Cambiamo argomento, parliamo dell'idea avuta dai gestori di una catena di ristoranti che hanno proposto come brand il nome La Mafia si siede a tavola. Il Tribunale dell'Unione Europea però glielo ha impedito Marco Bergamaschi. Il marchio spagnolo La Mafia se sienta alla Mesa, ovvero La Mafia si siede a tavola, usato per i servizi di ristorazione, è contrario all'ordine pubblico e non potrà più essere utilizzato, lo ha stabilito la Corte dell'Unione Europea. Nel 2006 la società spagnola La Honorable Hermandad, alla quale è succeduta la Mafia Franchises, aveva chiesto all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale di registrare l'infellice brand, poi utilizzato come testimonia anche un video promozionale su YouTube nei ristoranti della catena nella penisola iberica. Nel 2015 l'Italia aveva chiesto e ottenuto l'annullamento della registrazione. A questo punto la società spagnola aveva fatto ricorso al Tribunale dell'Unione per annullare la decisione. Ricorso oggi respinto dalla Corte, il marchio si legge nella sentenza, trasmette un'immagine complessivamente positiva della mafia e banalizzi i gravi attacchi sferrati e i valori fondamentali dell'Unione. La sentenza commenta il Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosi Bindi, corona la battaglia legale e culturale ingaggiata dall'Italia e pone le premesse necessarie a scalfire un atteggiamento diffuso, soprattutto all'estero, di sfruttamento commerciale della mafia come brand di successo, che contribuisce, prosegue la Bindi, a mascherare o peggio idealizzare la natura criminale delle associazioni mafiose. Un business milionario che va fermato, dice Coldiretti, pur commentando positivamente la sentenza, l'associazione ribadisce i troppi casi concreti in cui si fa affari sfruttando a tavola gli episodi e le forme di criminalità organizzata più dolorose e odiose a danno, tra l'altro, del vero Made in Italy. Mancano ormai solo due giorni alla visita del Papa Pietrelcina e sarà la prima volta di un pontefice nella terra natale di Padre Pio. Come la città sta vivendo l'attesa di Francesco? Ce lo racconta Luigi Ferraiuolo. Preghiera, gioia, emozioni, lavori in corso. A 50 anni dalla morte di Padre Pio e a 100 dalla comparsa delle stimmate, per la prima volta un Papa arriva a Pietrelcina, il paese natale del Santo della Misericordia. E che pontefice, proprio Francesco, che due anni fa favorì il ritorno a casa di Padre Pio dopo 100 anni. Fino ad allora il Santo Sannita non era potuto rientrare nel suo paese natale. Qua siamo tutti in vermento, veramente eccezionali. Chi se lo aspettava mai che il Santo Padre veniva a Pietrelcina proprio per visitare il nostro caro amato Padre Pio. È un evento al di fuori del normale. Sai, siamo tutti che, insomma, abbiamo la carne che ci pizzica. È un sogno che si realizza. Innanzitutto il Papa ha realizzato anche il corpo di Padre Pio a Pietrelcina. Adesso è la sua venuta e si realizza tutto il nostro sogno di noi Pietrelcinesi. Dopo aver favorito il ritorno a casa di San Pio, Papa Francesco ha deciso di venire a visitare il luogo dove era nato, dove è diventato santo e la cappellina dell'olmo dove Padre Pio parlava con Gesù e ricevette per la prima volta le stimmate. Ci sono poche parole da dire, c'è soltanto una grandissima emozione, secondo me, che non si può spiegare, non si può fare nulla, c'è soltanto da ascoltare il cuore, basta. È un evento storico per noi. L'abbiamo sempre sognato che un Papa venisse qui a Pietrelcina e finalmente è arrivato il Papa degli ultimi. Papa Francesco arriverà sabato 17 in mattinata a Pietrelcina. Alle 8 sarà già a Piana Romana per pregare sui luoghi del Santo Sannita e sono migliaia le persone che pregheranno insieme con lui, perché la preghiera insieme con la misericordia legano Papa Bergoglio e Padre Pio. Noi ci fermiamo qui, vi lascio in compagnia di Donatello Vaccarelli e TGTG. State con noi.